allora ragazzi benvenuti a tutti ovviamente questa è un estratto della live che ho fatto praticamente ieri per chi ovviamente è stato in live ieri dove annuncio ufficialmente la campagna la campagna di natale 2023 per quanto riguarda i miei canali twitch e youtube chi mi conosce chi ovviamente frequenta il mio canale sa che io durante le festività natalizie essendo comunque uno dei miei periodi dell'anno preferito cerco sempre di spingere i numeri del mio canale per tentare di crescere per tentare anche di ritornare qualcosa alla mia community che fondamentalmente durante tutto l'anno chi più chi meno ha sempre cercato di sostenermi e quindi ho sempre cercato in un modo o nell'altro di ripagare la mia community non solo tramite ovviamente contenuti e quello che riesco a produrre comunque durante l'anno ma anche con qualcosa che effettivamente possano possono toccare con mano quindi un qualcosa di tangibile fondamentalmente e quest'anno ho deciso di riapplicare lo stesso metodo che ho utilizzato praticamente l'anno scorso ovvero la chocoboard del mese di natale quindi da oggi che è praticamente il 26 di novembre fino al 6 di gennaio 2024 ci sarà la possibilità di poter completare in live o comunque anche passivamente perché ci saranno comunque degli obiettivi passivi che si potranno comunque completare passivamente che permetteranno non solo al canale di crescere ma anche di far accrescere quella che sarà poi la tombolata di natale e la tombolata finale di giorno 6 gennaio che sarà appunto l'epifania che chiude fondamentalmente queste festività natalizie come funziona il tutto il tutto funziona nella stessa tipologia di chocoboard di dissidio per omnia quindi chi mi conosce e conosce fondamentalmente il gioco di dissidio per omnia sa che fondamentalmente bisogna completare gli obiettivi e bisogna completarli in tris che cosa vuol dire in tris ovvero con una serie di tre obiettivi completati in maniera orizzontale verticale oppure diagonale come vi farò vedere in questa foto ecco qua come potete notare abbiamo praticamente la come dire la striscia rossa orizzontale che permetterà di concludere gli obiettivi e quindi di conseguenza sbloccare una ricompensa oppure in diagonale come la striscia verde che consentirà di sbloccare altri altre ricompense e poi quella in verticale di colore indaco o comunque sia violaceo che vi che consentirà comunque di ottenere altre ricompense ovviamente gli obiettivi sono diversi che si possono leggere a schermo e sono obiettivi che andranno a coinvolgere sia il mio canale twitch e sia il mio canale youtube dato che sono comunque i due i due canali fondamentalmente che mi rappresentano di più praticamente sulla piattaforma in generale per quanto riguarda ovviamente gli obiettivi che andrò praticamente ad elencarvi li potete vedere già su schermo ovvero ci saranno degli obiettivi più semplici degli obiettivi più facili chiamiamoli così che ovviamente saranno considerati validi per tutto il periodo di tempo e consentiranno poi successivamente di sbloccare le ricompense le ricompense ovviamente saranno sempre più succose man mano che si completeranno più tris quindi ci saranno regali come abbonamenti o comunque card google play amazon eccetera eccetera che verranno aggiunte alla tombolata che organizzeremo prima di natale quindi faremo comunque una tombolata sicuramente nella settimana prima di natale quindi a partire diciamo all'incirca verso il 20 21 22 in base poi anche a quando saranno praticamente questi giorni di dicembre ecco molto probabilmente sarebbe figo per esempio farla o il 22 il 23 che sono venerdì e sabato quindi magari la gente sta un po più a casa quindi giorno 22 o giorno 23 di dicembre potrei effettivamente organizzare già la prima tombolata ovvero prima di natale anche per poterci scambiare gli auguri e fondamentalmente stare una serata insieme mentre invece la seconda tombolata sarà sicuramente giorno 6 quindi per il giorno dell'epifania chiuderemo le festività e faremo appunto un'altra tombolata ovviamente tutti gli obiettivi che verranno completati successivamente alla prima tombolata verranno accumulati per la tombolata dell'epifania se invece dovessimo per un per un caso fortunato completare tutti gli obiettivi prima della tombolata di natale ovviamente avremo il doppio delle ricompense che invece verranno offerte per la tombolata di per la tombolata praticamente dell'epifania quindi che cosa vuol dire che se noi abbiamo ottenuto praticamente tutti gli obiettivi e come premio per esempio ho messo a disposizione un buono amazon da 50 euro il buono amazon da 50 euro sarà vinto nella tombolata di natale mentre invece automaticamente per la tombolata dell'epifania sarà di 100 euro quindi diciamo che andremo praticamente a raddoppiare quello che già ho messo in palio quindi diciamo che è una cosa che conviene un po a tutti quindi ci vuole anche la partecipazione di chi effettivamente vuole condividere e vuole effettivamente aiutarmi a sbloccare questi obiettivi come detto prima gli obiettivi si sbloccano in modo orizzontale verticale e anche in diagonale e ogni tris che verrà completato andrà ad aggiungere un premio addizionale premi addizionali che ovviamente deciderò per conto mio e che comunque comunicherò successivamente prima della tombolata anche in base a quanti tris mettiamola così andremo a a completare ci saranno comunque inclusi sicuramente buoni amazon buoni google play e giochi chiavi di giochi che ovviamente avrò la possibilità di poter riscattare e poi successivamente regalare ai fortunati vincitori mentre invece il maxi premio poi della tombolata di chi effettivamente vince la tombolata sarà il classico buono amazon da 50 euro che ho regalato comunque anche l'anno scorso quindi tutti coloro che poi vorranno partecipare tutti coloro che saranno disponibili a partecipare ovviamente avranno la possibilità di essere inseriti ci saranno ovviamente dei premi garantiti per i sub o che comunque avranno la possibilità di avere la sub e quindi fatta per l'occasione e quindi avranno la possibilità di essere come dire un po' più favoriti rispetto ai comuni mortali chiamiamoli così però tutto questo verrà poi spiegato successivamente nella tombolata ufficiale che faremo per natale o comunque prima di natale vi ricordo che gli obiettivi sono per l'appunto in orizzontale verticale diagonale e quindi sta comunque alla community di cercare di rispettare e successivamente completare questi obiettivi partiamo da quello più semplice che è una sub quindi la prima sub che comunque viene giftata o comunque una nuova sub che viene fatta all'interno del canale sblocca già il primo tassello in alta a sinistra poi successivamente abbiamo 100 bit che sono appunto la diciamo la donazione tra virgolette di 100 bit che non deve essere singola ma sono appunto l'accumulo di bit durante tutto il periodo quindi 100 bit andranno poi a sbloccare la seconda casella 25 sub in generale che verranno comunque giftate o fatte all'interno del canale consentiranno di sbloccare la terza casella 500 bit la quarta casella la casella centrale che è diciamo quella più difficile quella che sblocca il premio più succoso sono i 1500 followers su twitch anche a 1300 potrei effettivamente darla valida però ovviamente vedremo poi vedremo poi successivamente come organizzarla al meglio la sesta il sesto obiettivo sono 1500 bit totali durante tutta la campagna di natale l'angolo in basso a sinistra invece sono le 50 sub totali comprese sia twitch che youtube bisogna vedere anche magari come funzionano per i canali twitch e youtube vedere un pochettino quante sub effettivamente vengono effettuate penultimo obiettivo i 5000 bits totali e poi alla fine in basso a destra i 2.500 iscritti su youtube che sarebbe un modo interessante di chiudere questo anno siamo già a 2002 se non se non mi ricordo male circa una roba del genere quindi diciamo che arrivare a 2005 sarebbe comunque un risultato molto molto interessante giusto per fare una bella cifra tonda è ovviamente sbloccare anche l'ultimo obiettivo sono diciamo che sono ovviamente obiettivi molto molto particolari sono molto anche diciamo pretenziosi da parte mia me ne rendo conto ma devo necessariamente spingere durante queste festività natalizie se non spingo il canale o comunque in voglio il canale a crescere durante queste festività natalizie non avrei altro modo di poterlo fare durante l'anno quindi ovviamente tutti possono partecipare più o meno come meglio credono perché ovviamente la partecipazione è sempre libera a queste campagne però ricordatevi che più io ricevo dalla mia community e più sarò io a dare contro alla mia community nel senso io vi darò sempre di più più ricevo io più riceve la community è appunto un dare per avere fondamentalmente quindi è una cosa che ci tengo sempre a sottolineare perché queste campagne a me piacciono tanto da fare però mi piacerebbe tanto anche vedere la partecipazione simile a quella che c'è stata l'anno scorso che comunque l'anno scorso non è andata malissimo come campagna abbiamo fatto comunque anche dei buoni risultati quindi speriamo che quest'anno si possa effettivamente ripetere il tutto detto ciò ovviamente tutti i dettagli delle varie ricompense nello specifico dei vari tris che vi ricordo si possono fare sempre in orizzontale verticale e diagonale in base agli obiettivi che andremo a completare le comunicherò poi successivamente prima della tombolata in modo tale che comunque sia non si venga influenzati nel completare un obiettivo rispetto a un altro in base alle varie ricompense che vengono inserite quindi mi prendo la facoltà di poter impostare le ricompense come meglio credo in modo tale che poi quando si vengono successivamente a completare fondamentalmente i vari tris o comunque i vari obiettivi ci possa essere una ricompensa che sia degna o comunque che sia valida per tutti quelli che effettivamente hanno contribuito detto questo io do il via ufficialmente a questa campagna spero di vedere una buona partecipazione per quanto riguarda la mia community detto ciò vi aspetto in live vi aspetto con i prossimi appuntamenti qui su youtube e ovviamente mi raccomando supportatemi che io sarò sempre al vostro fianco grazie ancora per aver ascoltato e ora dedichiamoci alla serata che abbiamo in programma per oggi